Da domani Omenia entra nell'anno in cui è città europea dello sport, prevista l'inaugurazione ufficiale con la sfilata per le vie del centro cittadino delle 43 società omeniese e la successiva cerimonia al teatro sociale in cui ci saranno esponenti di spicco della politica nazionale. Potrebbe anche esserci il ministro dello sport Giancarlo Giorgetti, ma il riconoscimento di città europea dello sport è anche uno sprone per l'amministrazione comunale a programmare investimenti per il miglioramento e l'adeguamento dell'impiantistica sportiva cittadina. Nel bilancio 2019 sono stati inseriti 200 mila euro per interventi importanti allo stadio liberazione, ma non solo. Come avevamo promesso in campagna elettorale, spiega l'assessore Francesco Perrone, andiamo a dotare lo stadio liberazione dell'impianto di illuminazione nuovo, il che consentirà alla società di non emigrare più nei turni serali di campionato. Interveremo anche al campo sportivo di Agrano, qui è prevista la realizzazione dei bagni, lascia passare necessario perché la federazione dia l'omologazione all'Agrano per giocare in casa. Presso il campo sportivo di Bagnella saranno rifatti gli spogliatoi, interventi ci saranno anche a Cireggio per migliorare l'illuminazione. Previsti piccoli lavori di manutenzione straordinaria presso la palestra della pesistica e dal circolo del tennis dove sarà sistemato una muro pericolante. Con questi investimenti, conclude Perrone, dimostriamo che il riconoscimento di città europea dello sport per noi è stato ed è uno sprone a fare qualcosa di concreto per le nostre realtà.